Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di Spazio Professioni. Vediamo insieme le notizie della settimana. Bene, un testo unico delle tipologie contrattuali, ma stiamo ben lontani dalla necessaria semplificazione normativa che gli operatori economici si attendevano dal disegno riformatore del Job Act. Con queste parole, il presidente di Conf Professioni, Gaetano Stella, ha aperto il suo intervento alla Commissione Lavoro del Senato durante l'audizione sugli schemi del decreto per il riordino delle tipologie contrattuali e delle misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Una relazione che ha toccato numerosi punti di interesse, segnalando rischi e opportunità sugli assetti occupazionali delle diverse realtà economiche e produttive. Bene il contratto a tempo parziale, considerata la forte incidenza femminile nella popolazione degli studi, che ha permesso infatti di conciliare tempi di vita e di lavoro. Positiva inoltre è la facoltà conferita alle parti sociali di prevedere un utilizzo a causale del lavoro supplementare in un'ottica di semplificazione dell'Istituto. Tuttavia i limiti imposti all'utilizzo del lavoro supplementare e delle clausole elastiche e flessibili in mancanza di una regolamentazione collettiva appaiono troppo stringenti. Apprezzabile poi il tentativo del legislatore di promuovere l'apprendistato di primo tipo e la possibilità di prorogare fino a un anno il contratto di apprendistato dei giovani, che permetterà al datore di lavoro di usufruire di un periodo aggiuntivo di formazione. Quanto al superamento del contratto a progetto, secondo Stella la norma si presta a numerose puntualizzazioni. Sono entrate in vigore dal 1 maggio la Naspi e l'Asdi, i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal Job Act, anche se non sono ancora chiare le modalità di richieste di erogazione dei contributi dal momento che per la Naspi si è in attesa della circolare attuativa da parte dell'Inps, mentre per l'Asdi è necessario un provvedimento interministeriale. Quello che certo sono i soggetti cui sono destinate le due indennità. La Naspi infatti è l'indennità riservata ai lavoratori dipendenti, apprendisti e soci di cooperative che perdono il lavoro. Sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione e gli agricoltori, soggetti a normative specifiche. Sentiamo altri dettagli nel servizio. Più conveniente per chi ha lavorato più a lungo, ma penalizzante sotto il profilo dei contributi figurativi per le persone con retribuzioni più alte. A pochi giorni dall'arrivo della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione che sostituisce l'Aspi e la mini-Aspi, si fanno i conti su vantaggi e svantaggi del nuovo sussidio che sarà affiancato da due nuovi trattamenti contro la disoccupazione, che tuteleranno anche i precari e coloro che hanno esaurito la Naspi e sono in condizione di bisogno. Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha precisato che l'indennità contro la disoccupazione involontaria spetta anche a chi ha subito un licenziamento disciplinare. Dal Ministero hanno anche assicurato chiarimenti sulla situazione degli stagionali, categoria che rischia, con le nuove regole, di avere il sussidio per meno tempo. Ecco in sintesi vantaggi e svantaggi. Il limite della durata è 24 mesi invece di 16 mesi nel 2015. Sull'importo viene penalizzato chi ha avuto una crescita più rapida della retribuzione. La decurtazione più alta è quella di chi resta disoccupato più a lungo, mentre il tetto alla contribuzione figurativa penalizza le retribuzioni più alte. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto sul tema del lavoro, auspicando che la politica trovi delle intese per sbloccare la grave situazione in cui verte il nostro Paese. Sentiamo. La disoccupazione rimane una ferita lacerante del tessuto sociale italiano e va affrontata insieme. Sergio Mattarella ha lanciato ieri un appello accorato a tutti i partiti, le forze sociali, gli imprenditori e i sindacati a rimettere al centro la prima emergenza italiana, quella fame di lavoro che sta lasciando a immagini del Paese un'intera generazione. Nella giornata in cui si celebra la festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica non poteva essere più chiaro, spiegando come la Carta Costituzionale renda un obbligo morale non solo creare posti di lavoro, ma addirittura porsi l'obiettivo della piena occupazione. Parlando davanti alle alte cariche dello Stato, mentre a Milano il Premier Matteo Renzi apriva l'Expo 2015, Mattarella ha scandito che il lavoro è la prima delle priorità. Per questo serve il dialogo fra tutti, anche tra governo e sindacati. La piena occupazione è anche il primo obiettivo per il Segretario Generale della CGL, Susanna Camusso. Il Presidente Mattarella ha sottolineato poi la crescita delle disuguaglianze e l'apertura di una nuova questione meridionale. Parliamo di pensioni. Se il buco dovesse salire a 13 miliardi è necessario che il Governo studi come ridurre l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale, escludendo comunque gli assegni più ricchi. Ma la decisione apre un conflitto tra le leggi italiane e i trattati europei, un confronto che potrebbe finire alla Corte di Lussemburgo. Il Governo è al lavoro per trovare una soluzione che dia applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, senza però mettere a rischio i conti pubblici. In ballo ci sono cifre da capogiro che si aggirano sui 10 miliardi di euro. Le possibili vie da percorrere per restituire i soldi ai pensionati sono al vaglio dei tecnici e si riaffaccia l'idea di un ricalcolo dei contributi per le pensioni più alte. A evocarlo è il responsabile economico del PD Filippo Taddei. La consulta dice che la pensione è retribuzione differita, allora deve essere proporzionale ai contributi versati. Se è così, mantenendo il principio di equità, bisogna intervenire sulle pensioni più alte. E il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha più volte sottolineato che ci sono pensioni molto alte non giustificate dai contributi versati, indicando dunque un problema di equità che andrebbe affrontato. Non manca infine il solito e puntuale avvertimento dell'Unione Europea perché qualsiasi cosa cambi gli obiettivi di bilancio del DEF deve essere compensato. Confermate dall'Unione Europea le stime sul PIL italiano per il 2016 a un più 1,4%. Vediamo il servizio. Confermate le stime europee sull'Italia presentate a Bruxelles. L'economia del bel paese torna a crescere quest'anno e la ripresa si rafforzerà all'anno prossimo con una crescita prevista dello 0,6% nel 2015 e dell'1,4% nel 2016. La Commissione Europea rivede inoltre a rialzo le stime sul debito italiano. Nel 2015 pari a più 133,1% dal 133% di febbraio ma prevede un deciso calo nel 2016 quando dovrebbe scendere a 130,6% grazie alla crescita nominale più alta e all'avanzo primario. Per l'Italia la sfida maggiore è l'elevato debito con la crescita che resta debole ha detto il commissario agli affari economici Moscovici serve una politica di bilancio prudente con un'agenda di riforme ambiziosa. L'Unione Europea lascia invece invariate rispetto a febbraio le stime sul deficit italiano che dal 3% del 2014 cala a 2,6% nel 2015 e a 2% nel 2016 mentre peggiora leggermente quello strutturale salendo allo 0,7% dallo 0,6% di febbraio. Quanto alla disoccupazione Bruxelles rivede a ribasso le stime di febbraio e aggiorna il 12,8% e il 12,6% di tre mesi fa con un 12,4% per questo anno e anche il prossimo. Il faro di Bruxelles resta inoltre puntato sulle pensioni è competenza delle autorità di Roma dire quali sono le misure per compensare le perdite e garantire che l'Italia resti nella pista prevista dal patto di stabilità ha aggiunto Moscovici. Un software applicativo integrato con servizi online per redigere tutta la documentazione necessaria per la proposizione e la gestione del mandato professionale per la predisposizione di un preventivo dettagliato della documentazione ai fini dell'antiriciclaggio e della privacy e quanto metterà a breve a disposizione gratuitamente per tutti gli oltre 115.000 iscritti alla categoria il Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Software e servizi online saranno integrati con una serie di rilasci successivi. Il software unisce completezza funzionale a semplicità applicativa grazie a una serie di menu l'utilizzatore viene guidato affinché le caratteristiche della prestazione siano puntualmente evidenziate ed esposte nei documenti di sintesi. La possibilità di redigere un mandato professionale completo e esaustivo della documentazione necessaria renderà il rapporto professionista azienda chiaro e trasparente a tutela delle parti e garanzia reciproca. Questo l'obiettivo. Positivo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Leopoldo Frieli alle parole del Capogruppo al Senato del PD Luigi Zanda che sulla riforma del Codice Appalti aveva parlato appernamente dell'importanza della progettazione. Se con il nuovo codice finalmente il Governo e il Parlamento decideranno che nelle gare si vince sulla base di criteri di qualità del progetto non solo avremo buone architetture pubbliche realizzate bene e al giusto costo ma avremo anche inferto un colpo molto serio alle mafie che sugli appalti pubblici hanno costruito le fondamenta della loro economia. Per questa edizione è tutto vi aspetto il prossimo martedì buona serata.